Elia Vossi, verrebbe con te da partire dalla fine, da quell'ultimo set nel quale tu e Sanguiniti siete stati grandi protagonisti, un set che come precedente, come la stagione, è stato un incompiuto. Sì, ci siamo divertiti quantomeno, io sono contento delle mie prestazioni, sono contento di aver aiutato la squadra ed è quello che voglio fare, tutte le partite, in ogni modo, tutti i giorni, perché la maggior parte del lavoro lo si fa durante la settimana e poi alla domenica bisogna portare a casa i risultati. Quindi sì, stasera ci siamo divertiti, loro hanno fatto un po' i bulli, noi abbiamo cercato di stare al loro passo, non ci è proprio riuscito fino alla fine. Come si può giudicare questo sito? Come un'occasione persa? Come dentro di te rimane la delusione, rimane il rimpianto o in fondo la lube è stata comunque più forte al di là dell'assenza? Quelli che sono scesi in campo stasera sono dei grandissimi campioni, lo sapevamo e l'hanno dimostrato. Certo, con qualche sbattatura in meno si poteva portare questa gara, si poteva arrivare a gara 3 e poi non lo puoi sapere, la pallavolo è bella per questo. Sì, non so per l'altro dia.